Accese e polemiche hanno suscitato a Napoli murales e altarini realizzati per ricordare i giovani coinvolti in vicende di malavita. Uno dei murales contestati è ora stato rimosso. Diego Dionoro. Alla fine è stato rimosso. Agenti della Municipale e della Polizia di Stato hanno ricoperto con vernice bianca la gigantografia di Luigi Cagliafa, realizzata su un muro di via Sedil Capuano all'incrocio con via dei Tribunali all'indomani del suo omicidio. Era il 4 ottobre, aveva 17 anni, fu ucciso da un poliziotto nel corso di una tentata rapina. Ci sono volute la richiesta del prefetto Valentini, del procuratore generale Riello e tre mesi di polemiche perché il comune desse mandato agli agenti di intervenire per la rimozione di quello che nel frattempo era diventato uno dei simboli per una minoranza della città. Sono stati rimossi anche i paletti e le fioriere che delimitavano il murale, mentre l'altarino è stato portato via dai familiari della vittima. Continua a campeggiare invece nei quartieri spagnoli l'altro murale delle polemiche, quello dedicato a Ugo Russo, 15 anni, ucciso anche lui da un carabiniere nel corso di un'altra tentata rapina a marzo. In questo caso il comune interverrà almeno fra tre settimane se non dovesse farlo prima al condominio, sul quale pende una diffida.